Non proprio Befane, ma di sicuro una visita inaspettata nel reparto di pediatria del San Bassiano, dove i piccoli pazienti hanno ricevuto il giorno dell'epifania una calza ideale direttamente dalle mani dei carabinieri della compagnia di Bassano. Una delegazione guidata dal tenente Antonio Bellanova ha infatti visitato il reparto portando gadget istituzionali e rispondendo alle tante domande che i bambini hanno posto agli uomini e alle donne dell'arma, regalando loro attenzione e una mattinata speciale che terranno nel cuore.